Al teatro argentina, gremito di tecnici agricoli e di rurali. I 46 agricoltori che per essersi distinti fra i 708 vincitori di primi premi nelle gare provinciali sono stati proclamati vincitori del primo concorso del grano. Hanno ricevuto dalle mani del Duce il premio alla loro vittoriosa fatica. La premiazione ha dato luogo a significativi episodi di patriottismo e di fede fascista. Agricoltori, vescovi e parroci hanno riconsegnato al Duce l'importo dei premi. E cospicue offerte di oro. Grazie a tutti.